Questa signora che è accanto a me, che è una donna dolcissima, è la signora Paola ed è la mamma di Federico Luzzi. Federico Luzzi è un campione che purtroppo ci ha lasciati per una malattia improvvisa, per quanto brutale e rapida, una leucemia fulminante, se non sbaglio. In due giorni, Federico nell'ottobre 2008, in due giorni ci ha lasciato. Un ragazzo che era una promessa in tutto, perché era un ottimo tennista ed si accingeva anche a intraprendere la carriera da attore. Questa signora, ovviamente da quando suo figlio è scomparso, ha cercato di veicolare offerte e solidarietà verso il mondo della ricerca, giusto Paola? Assolutamente sì, quando capita una tragedia così bisogna trovare un ancora di salvezza ed è stato quello di focalizzare le attenzioni sull'organizzazione di eventi per raccogliere fondi per aiutare i malati di leucemia purtroppo e sovvenzionare la ricerca. Abbiamo costruito la Fedelux e la sezione A il Federico Luzzi di Arezzo. Quindi la trovate anche su Facebook, Fedelux, potete vedere di che cosa si tratta e soprattutto potrete nei prossimi mesi, nei prossimi anni, mi auguro che duriamo tanto, vederlo con noi perché assieme alla signora Paola abbiamo deciso di cominciare una collaborazione di solidarietà. Si parla di questi tre giorni, 23, 24 e 25, di questo tour de force dedicato a che cosa Paola? Allora dunque, l'AIL nazionale in 80 città italiane vende le uova di Pasqua per raccogliere fondi. Naturalmente nelle piazze della provincia di Arezzo troverete la sigla dell'AIL e il nome di Federico Luzzi. Tutto quello che noi raccogliamo serve a finanziare un servizio medico per aiutare i malati di leucemia a domicilio e paghiamo anche un medico specialista di supporto all'ospedale San Donato nel reparto di ematologia. Quindi tutto quello che voi date va a beneficio dei, purtroppo, nostri malati che affluiscono all'ospedale San Donato. Questo riguarda ciò che troviamo sulla strada. Poi accade una serata di domenica, no? Sì, allora, la cosa bellissima è che al di là delle iniziative che ci inventiamo noi, tantissimi volontari si sono proposti e questa è la seconda edizione di una cosa bellissima che si svolge in Valdarno, un'esibizione di scuole di ballo. L'anno scorso è stato fatto al Teatro di Reggello, quest'anno al Teatro Bucci di San Giovanni di Valdarno, domenica pomeriggio alle tre e mezza. L'entrata è ingresso libero a offerta, noi accettiamo donazioni, quindi ci sarà uno spettacolo di esibizione di balli di tutti i generi, dal latinoamericani, insomma tutto quello che naturalmente può essere il ventaglio di proposte di 12 scuole di ballo con intermezzi di musica, di spettacolo, di cabaret e tutto questo va per raccogliere fondi e per far passare alle persone un momento di allegria in ricordo di Federico perché è bello quello che è nato dopo la sua morte. Io concludo dicendo una cosa, dopo tre anni e cinque mesi dalla morte di Federico vedo che tutto quello che si fa con il fuori dà tanto e quindi questa è la cosa più importante, quindi grazie Leonardo. Buon lavoro.